Nel sabato più vicino alla festa dei Santi Vitale e Agricola, un gruppo di adolescenti delle parrocchie bolognesi ha iniziato il percorso della professione di fede, un itinerario proposto dopo la cresima di riscoperta e di testimonianza pubblica della fede cristiana. Il cardinale Caffarra, nelle sue vesti di amministratore apostolico della diocesi petroniana, ha incontrato i ragazzi nella cripta della cattedrale e ha consegnato a ciascuno di loro un cartoncino con il testo del credo. Il credo, ha detto il cardinale, è il racconto di una storia che riguarda Dio e l'uomo. Le tre divine persone, del padre, del figlio e dello spirito santo, sono ricordate nel loro manifestarsi all'uomo in un grande mistero d'amore. L'umanità è rappresentata da due personaggi, diversissimi ma per certi aspetti esemplari, la Vergine Maria e Ponzio Pilato. Il cardinale ha consigliato ai ragazzi di recitare il credo non solo come esposizione della fede, ma di trasformarlo anche in preghiera, rivolgendosi a Dio. Io credo in te, mi affido a te, o Dio, padre e creatore. Terminato il breve incontro, l'arcivescovo ha chiesto ai ragazzi di dire una preghiera di suffragio per il suo predecessore, il cardinale Biffi, sepolto proprio lì nella cripta. Piuttosto di buon umore, il cardinale ha anche scherzato sulla sua definitiva collocazione.